...e gli dicono di votare. Se non hanno voglia di venire al Parlamento, come io vengo tutti i giorni, votino online, mandino una letterina per iscritto, per email e votino cosa vogliono fare sulla mia espulsione. Senta, una domanda. I suoi colleghi, uscendo, ci hanno detto che non l'hanno espulso, hanno solo deciso di rimandare alla rete la decisione. E infatti, allora, mancano 20 voti a questa possibilità. Quindi lei al momento non è espulso? Io non... è certo. Non può decidere per la discussione? Non può decidere ancora, mancano 20 voti e poi, ripeto, le palesi violazioni non ci sono mai state. Se avete seguito la diretta streaming sulla cosa, non so se qualcuno l'ha seguita, potrete vedere che, appurarvi che io non ho mai violato il codice di comportamento. Quindi è illegittima di per sé. Non è che 62 persone dicono che io ti ho ammazzato, tu sei viva, giusto? E se quei 62 dicono che ti ho ammazzato, che facciamo? Lo mettiamo online. È palesemente illegittima. Ma infatti lei...